Il versamento pleurico e la presenza di liquido all'interno del cavo pleurico dovuta a un aumento della produzione o un ridotto riassorbimento di questo liquido. Spesso si manifesta con dispnea e tratterò il versamento pleurico con la toracocentesi o drenaggio con 28-32 French. Queste sono delle parametri iniziali per capire soprattutto quello che dobbiamo fare. Quindi con la toracocentesi vedremo che ripristineremo la pressione negativa intrapleurica, la dinamica cardiorespiratoria normale e andremo a riespandere poi il parenchima e a riallineare il mediastino lungo l'asso longitudinale. Una cosa importante è distinguere il collasso polmonare della delettasia perché il collasso polmonare è tutto ciò che impedisce la normale espansione del polmone, mentre la delettasia è un'ostruzione interna delle vie aeree. E' importante poi sapere che ovviamente noi abbiamo la pleura parietale e quella viscerale con 10-20 ml di liquido pleurico. La pleura parietale è quella che riveste la parete toracica, quella viscerale è quella che riveste i polmoni. Dal punto di vista della circolazione ricordiamo che ovviamente c'è un coinvolgimento nella piccola e grande circolazione. Ovviamente senza ripeterla tutta perché è una cosa già risaputa, però nella circolazione grande abbiamo ovviamente il coinvolgimento della orta. In particolare dalla orta possono derivare le arterie intercostali e quelle bronchiali. E infatti troviamo proprio nella faccia inferiore della orta le arterie intercostali e quelle intertragobronchiali. Quindi quando c'è una lesione va sudorata correttamente. Nella piccola circolazione invece di solito diciamo che a differenza magari della cardiochirurgia dobbiamo considerare che tutti i vasi polmonari sono terminali. Quindi in chirurgia toracica è un po' più difficile, anzi non si hanno mai dei collaterali, dei circoli collaterali che possono sostituire un vaso chiuso. Quindi diciamo che bisogna essere veramente attenti a questa cosa. La presenza di liquido nel nostro polmone, quindi nella pleura, è regolata da una pressione idrostatica ed osmotica che è regolata a svolta da un equilibrio per la circolazione sistemica parietale delle vene intercostali, la circolazione polmonare e quella bronchiale. Di solito cos'è la pressione interstiziale? La pressione interstiziale è quella pressione dove c'è la filtrazione di liquidi dai capillari polmonari verso lo spazio pleurico, mentre la pressione osmotica è al contrario ed è un rassorbimento di liquidi. Per quanto riguarda l'estremità arteriosa ricordiamo che la pressione interstiziale è maggiore di quella osmotica, quindi il liquido passa più nell'interstizio e questo equilibrio può regolato dalla legge di Starling. E' importante sapere che poi ogni alterazione che avverrà nella pleura, quindi il versamento pleurico, va a trasformare lo spazio pleurico da virtuale a reale. Poi una cosa importante è che per quanto riguarda il versamento pleurico, dal punto di vista biochimico sappiamo che possiamo riscontrare due tipi di versamento, che può essere o il trasudato oppure l'essudato. Per quanto riguarda il trasudato, praticamente c'è una riduzione della concentrazione delle proteine minore di 25 grammi sul litro e questo criterio è il criterio di Light. Mentre nell'essudato, secondo sempre i criteri di Light, la concentrazione delle proteine sarà più elevata, di circa 35 grammi sul litro, quindi maggiore di 35 grammi sul litro. Per quanto riguarda poi l'eziologia, di solito nel trasudato abbiamo un'insufficienza ventricolare di sinistra, scusate, insufficienza ventricolare di sinistra, abbiamo stenosimitralica, pericardite costrittiva, cirrosi, ipoalbuminemia, sindrome nefrosica, pleurite uremica e via dicendo, ecco non vi faccio tutta la lista, mentre nell'essudato abbiamo una concentrazione proteica maggiore di 35 grammi sul litro, secondo i criteri di Light e avremo polmonite, neoplasie e virus. I criteri di Light dell'essudato sono i seguenti. Allora dobbiamo calcolare il rapporto tra le proteine, quelle pleuriche e quelle seriche, ed è maggiore di 0,5, mentre quello dell'LDH del liquido pleurico e del liquido sierico è maggiore di 0,6, l'LDH del liquido pleurico poi supera di due terzi i valori normali di LDH sierico. La sintomatologia sarà disponibile da sforzo, infatti il liquido va a comprimere il parenchima e quindi ovviamente avranno difficoltà respiratorie che si manifestano sia a riposo che comunque con lo sforzo. Dolore toracico che si può radiare alla spalla e al collo e tosse irritativa secca non produttiva. All'esame obiettivo, allora abbiamo una simmetria respiratoria, respiratoria, praticamente devo vedere che c'è una emitorace solitamente ipomobile o immobile, quindi metto i pollici mediali sulla colonna, faccio ispirare e che cosa vediamo? Dove c'è la zona di immobilità il torace rimane fermo e quindi il dito non si sposta. Dove invece c'è il segmento normalmente mobile la mano che poggio sulla colonna va a ruotare. Se il versamento massivo di solito il paziente giace sul lato patologico perché in questo modo favorisce l'escursione di aria verso il polmone sano, quindi riesce a respirare meglio sostanzialmente, mentre nel caso il versamento è piccolo, di solito invece giace sul lato sano in modo da minimizzare il dolore sul lato patologico. Quindi ricordiamo che abbiamo la palpazione, la percussione e l'auscultazione. Alla palpazione, come abbiamo già anticipato, se non sbaglio in altre lezioni, praticamente il fremito vocale tattile quando c'è un versamento plebrico ipotrasmesso. Se faccio pronunciare la parola 33 che è ricca di consonanti, troverò una ipotrasmissione talvolta pure assente. Alla percussione noterò l'ottusità, all'auscultazione la riduzione o l'assenza del murmure vescicolare con soffio bronchiale. Dal punto di vista seveiologico, ricordiamo dei punti importanti come la linea di Domo Soellis, il triangolo di Grocco e quello di Garland. Ciò che ci interessa sapere è che la linea di Domo Soellis vedete una linea che parte dalla colonna e si dirige verso l'alto lungo la linea ascellare posteriore e media, descrivendo una concavità rivolta verso il basso. Se io vado a notare, di solito nel versamento cosa faccio, vedo che sotto la linea di Domo Soellis c'è un'ottusità, al di sopra c'è un ipertimpanismo. Infatti, poi, anche nel triangolo di Garland, quello in fucsia che si trova sopra, sarà una zona iperfonetica, perché praticamente c'è un soffio bronchiale dovuto al versamento, mentre nel triangolo di Grocco, che sarebbe l'emitorace controlaterale, trovo un ipertimpanismo, perché si sposta il mediastino. All'Rx cosa trovo? All'Rx, praticamente, ricordiamo la differenza tra versamento pleurico e atelettasia. Nell'atelettasia, di solito, la trachea rimane omolaterale, si sposta in maniera omolaterale, ovviamente l'atelettasia, e quindi la valuto con la fibrobroncoscopia, mentre nel versamento pleurico la trachea si sposta controlateralmente, il paziente può andare anche in disponibilità con gasping, e devo fare la toracocentesi. Il mediastino, oppure, si sposta controlateralmente, di solito, se, appunto, l'entità del versamento è massivo, tutto si sposta controlateralmente, quindi il mediastino va controlateralmente, c'è anche un'accentuazione della trama broncovascolare, appunto, con questo sbandieramento mediastinico, mentre se, per esempio, il versamento di media entità, la trachea può rimanere in asse, al limite si può vedere una curva con concavità superiore, che parte dalla base polmonare. Poi, vabbè, la TAC valuta sempre la morfologia del versamento, e anche posso capire se ce l'è in piema, e l'eco si può fare, però dipende dall'operatore. Allora, la terapia. La terapia si fa col drenaggio pleurico, la famosa toracocentesi, che dobbiamo saper fare, perché, ovviamente, se pungiamo troppo in basso, o si ostruisce l'ago, o buca il diaframma. Ovviamente buca anche l'atteria diaframmatica, e quindi succede un'emorragia massiva, quindi dobbiamo evitarla. Quindi bisogna sempre valutare, vabbè, ovviamente il PT e l'INR, ed è fondamentale che il PT sia maggiore del 70%, o l'INR, comunque, devo essere entroimide, o comunque poco sotto. Qui ho fatto alcuni esempi, vabbè, di solito cosa succede? Che se c'è un paziente con la pneumectomia, devo saperla fare, questa toracocentesi, perché il cuore può spostarsi omolateralmente, quindi devo porre attenzione e cercare di non bucare il cuore. Se c'è un enfisema, idem, non devo bucare l'enfisema. Se c'è una relaxazio-teaframmatica, di solito post-traumatica, quando, per esempio, si sollevano i mediaframma, e l'altro rimane normale, diciamo, in posizione normale, posso bucare il diaframma, in questo caso. Quindi, di solito, la toracocentesi posso fermarla nel momento in cui, praticamente, il paziente inizia a tossire, perché il parenchima polmonare si espande, gli alveoli vanno in flocosi, e se la torse persiste, si può avere anche un broncospasmo, che causa un arresto cardiorespiratorio. Inoltre, il paziente potrà avere, per esempio, dei sintomi vagali dovuti al fatto che io tolgo il liquido, tolgo le proteine, e quindi, praticamente, si avrà la stimolazione vagale. Come si tratta? Si tratta con la VAT, per evacuare il versamento. La pleurectomia serve per togliere la pleura, però non dà degli alti percentuali di sopravvivenza, però posso aiutarmi a fare, poi, una pleurotesi, quindi mi permette di raggiungere una pleurotesi. La pleurotesi è una tecnica che, tramite un'abrasione meccanica, o una sostanza chimica, viene utilizzato soprattutto il talco, infatti si chiama talcaggio, e praticamente vado a obliterare lo spazio pleurico perversamente recidivante, e quindi questo offre buone possibilità. Grazie a tutti.